Eccoci qua, un'esclusiva particolare, 30 minuti pressanti, ma con notizie che il professor Antonio Chiumiento ci porta ancora una volta in esclusivo. Parliamo di oggetti volanti non identificati di strane creature viste sul suolo del Friuli Venezia Giulia e magari anche in altre regioni. Vi devo dire la verità, non so nulla di come andrà a finire questa puntata. Una cosa è certa, che quanto ci dirà il professor Chiumiento è un'esclusiva ed è una novità assoluta. Iniziamo però con una notizia che sta a cuore a me. Lei ha nuovamente iniziato a insegnare, questo è importante. Certo, certo, senza ombra di dubbio. Sono lo stringer di Udine. Ottimo istituto. Sì, sì, ottimo istituto, ho sette classi e dove ce ne fosse bisogno sto benissimo, mi trovo benissimo e se dovevo essere come mia consuetudine sincero, gli studenti hanno già manifestato veramente un'enorme soddisfazione nei miei confronti. Allora, professor Chiumiento, Antonio, qual è la novità principale? La novità principale è che abbiamo avuto il 20 agosto la presenza di una strana creatura alta a Passons di Pasian di Prato, ma veniamo nei dettagli. Ci sono due ragazze che, lo ripeto, mi pare che fosse lunedì, sì, doveva essere lunedì, 20 agosto ovviamente 2012 e le due ragazze erano andate a fare una passeggiata portandosi da Passons di Pasian di Prato a piedi su una strada che conduce al centro di Pasian di Prato. Ad un certo punto, e questo è molto interessante, in quanto ci si pone l'interrogativo se questa stranissima creatura alta circa 4 metri, di cui abbiamo parlato abbondantemente per quanto concerne la vicenda della cosiddetta rotondona di Mortegliano, è abbinabile o meno al fenomeno degli UFO. Allora, i telespettatori come nostra consettudine, come mia consettudine giudichino loro, la loro attenzione viene attirata come delle specie di lampi che però sono strani lampi di luce, non sono lampi di un temporale, il cielo è perfettamente sereno e quindi la loro attenzione è attratta da questi, fra virgolette, lampi di luce. Ad un certo punto una di loro due cade con l'occhio, viene attirata la sua attenzione, da un lampione stradale che si accende e si spegne. Dietro questo lampione, da dietro questo lampione meglio, appare una sagoma, appare una sagoma che la ragazza facendo la stima rispetto all'altezza del lampione non è alto meno di circa 4 metri, e vede come una sorta di, lo definisce come un tronco di persona, fra virgolette persona e con due passi, dico due passi, la ragazza afferma che con un passo è arrivato a metà della strada e con l'altro passo è passato sul marciapiede, o meglio sulla pista ciclabile dove loro stavano passeggiando. E poi ha notato che questo essere, praticamente è come se fosse un attimo soffermato sul punto dove era giunto e dopo essersi soffermato, dando l'impressione netta di guardarsi attorno, si è come tuffato, attenzione, in un campo lì vicino, se non ricordo male, un campo di frumento o di mais, una delle due coltivazioni. Quello che è ancora interessante è, abbinamento presumibilmente al fenomeno degli UFO, è che nel cielo c'erano delle sfere di luce insolite e l'essere, nel momento in cui si è tuffato nel campo e ha preso una certa direzione, la ragazza, quella che si accorta del tutto, invece la sua amica è riuscita, perché aveva l'attenzione ancora rivolta verso quegli strani lampi di luce, la sua amica, dicevo, è riuscita a vedere il movimento del fogliame provocato da questo essere. Questa è una notizia che nessuno sapeva, appunto attraverso questo programma ne diamo notizia, perché per l'appunto questa è la sesta, sesta indagine che io personalmente faccio in merito all'osservazione di una stranissima creatura, di uno stranissimo essere. Sia la medesima? Ecco, nel Friuli è una località nei pressi di Portogruaro. E la medesima secondo me? Allora, il problema, perché è un problema. Che la medesima creatura che è stata vista a Morteliano? Ecco, esatto, questo purtroppo... Secondo? Allora, secondo me la probabilità potrebbe essere anche alta, però vedi Gigi, potrebbe essere una, e sottolineo potrebbe essere, una della stessa specie, perché nel caso di una località vicina a Gruaro, La Sega si chiama, dove ho raccolto la testimonianza di un signore, di un professionista di Pordenone. A proposito, io parlo solo di resoconti testimoniali che sono supportati da o dichiarazioni testimoniali scritte che in mio possesso, firmate di queste persone che chiedono l'anonimato, oppure registrazioni dell'inchiesta, come nel caso di Passons e di Pasian di Prato, ho raggiunto l'abitazione della ragazza e ho fatto la registrazione dell'indagine tutta. Nella località menzionata prima della Sega, località appunto di Gruaro, questo professionista di Pordenone, la cui attenzione era stata tirata dopo le 22.30, adesso di un giorno che chiedo scuse ai telespettatori, magari non mi ricordo precisamente, in quanto sapete tutte le notizie che via via ho in mente, non è che posso fissare la data precisa, comunque stava attraversando l'abitato menzionato prima, in macchina, stava rientrando ad Alzanodecimo dove lui abita, la sua attenzione è stata tratta da una specie di vento, che era strano perché non riusciva a capire, un certo tipo di vento che coinvolgeva una zona, un campo, sì, esattamente, un campo lì vicino. Quando poi la sua attenzione è stata tirata da questo, guarda caso, punto esclamativo, in merito alle osservazioni che sono avvenute e su cui ho indagato, attraversano la strada, ecco, prima però attenzione, vede una creatura altissima, alla Sega, proprio nel centro, lui stava attraversando, tra le 22.30 e le 23 circa, in centro alla Sega, è pochissime case, un campo che si notava dalla strada, lo voglio risottolineare, vortice di vento, turbinio di vento che non doveva esserci, ecco cosa ha tirato il Signore in questione. Per spiegare ancora meglio, se mi permetti, lui nota in questo campo una zona dove c'è un vortice di vento che non dovrebbe esserci, perché altrimenti dovrebbe essere più… Era steso, ma insomma erano le condizioni meteo benissime, ora dire ai telespettatori che fosse marzo è molto probabile, ma la data esatta… Quindi questo avviene prima… No, è avvenuta dopo Mortegliano, infatti in base alla vicenda di Mortegliano avvenuta la notte dell'11 febbraio, per l'appunto poi… Sì, febbraio, giusto. …delle persone, ecco, io dirvi in questo istante che fosse marzo potrei sbagliare, aprile non di sicuro. Però se ben ti ricordi… Non credo aprile, credo marzo. Se ben ti ricordi, quando noi per primi dammo la notizia, assieme con te, arrivavano dei messaggi e anche qualcuno ci diceva che questo strano essere era stato notato anche nel vicino Veneto. Ecco, infatti io parlo di questa località di Gruaro proprio perché lì ho una deposizione testimoniale scritta, perché appunto non posso basarmi ovviamente come investigatore solo su notizie che io non riesco ad indagare e investigare. Ecco, terminando in sintesi il fatto, anche perché i telespettatori non lo conoscono, in mezzo alla strada ha visto ad un certo punto una creatura che era alta anche qui in questa occasione, non meno di 4 metri, che è rimasta ferma per un periodo, per adesso dire quanti secondi in questo momento non ricordo, per un certo tempo. Infatti a lui è venuta anche l'idea di investirlo, ma dice, ma io ero talmente impaurito dalla visione di questo essere che per me apparteneva alla fantascienza. Anche lui è alto questo essere? Sì, circa 4 metri. Vabbè, quello di Mortelliano. O lo stesso o uno della stessa specie di quello di Mortelliano. Immagina che ti abbia fatto anche un identikit, più o meno è quello, o lo stesso o uno della stessa specie. Stati intanto vedendo, ovviamente cari amici e amiche, l'identikit dell'essere visto a Mortelliano dal giovine, come diceva Pertini, giovine, che noi non nominiamo perché voi sapete che ha deciso di tenere l'anonimato dopo l'esplosione della notizia, dopo che lui stesso era venuto qui nei nostri studi, a dichiararsi. Ma adesso io, se mi permetti, se abbiamo il tempo, volevo terminare e dirti anche la questione del ragazzo di Codroipo. Perché? Terminiamo allora la sega. Sì, no, no, ma termino quello sicuramente, ma poi ti dico perché anche lì c'è una notizia che i telespettatori giudicheranno perché è veramente allarmante. Allora dicevo che ad un certo punto l'essere grande, quello di circa 4 metri di altezza, nel momento in cui ha cominciato a camminare in un certo modo particolare e ad allontanarsi, appare un altro essere, più piccolo di lui. non è riuscito a vederlo bene, però lui dice che non era umano neanche questo. Quindi abbiamo nei dettagli, nel mio libro futuro sulla creatura di Mortegliano, avremo anche i primissimi giorni di dicembre, tra l'altro dedicato anche a te. Ti ringrazio. Ma di cosa? Non è una questione che io apprezzo moltissimo. Spero di venire a presentartelo in qualche luogo. Mamma mia, il tuo modo di fare giornalismo, e non è circostanziale. Io ho apprezzo, ho apprezzato sempre, e non è questione del tuo modo di essere giornalista. Ti ringrazio. E ne voglio dare atto proprio in questo volume che dovrebbe, come dire, fra virgolette potenzialmente fare il giro del mondo. Ora, il ragazzo, perché ha mandato la raccomandata a voi, eccetera, per l'anonimato? Anche perché anticipo... A noi, a Mediaset, la mandata e a te. A Mediaset, anche a me. Però anticipo, perché sicuramente starà ascoltando il mio giovane amico di Codroipo, ha autorizzato me, nel libro sulla creatura di Mortegliano, di pubblicare nome e cognome. C'è anche un suo scritto firmato da lui, per la sua esperienza, per come lui ha vissuto quell'esperienza e la reazione di una parte dell'opinione pubblica. E ci sarà anche uno scritto del papà. Allora, attenzione, interpretino i telespettatori, così vi do anche una notizia. Da mesi, da quando la vicenda della rotonda di Mortegliano è esplosa, la famiglia del giovane ha ricevuto ripetuti, fatti trovare meglio, biglietti con delle minacce alla famiglia stessa, a me, per quanto attiene questa storia. Minacce di che tipo, scusate? Minacce soprattutto verso la mia persona, verso l'incolumità mia, e anche delle offese pesantissime alla famiglia stessa. E si firma questa quantitatica persona con G.P. punto, stiano attenti i telespettatori, le persone che erano presenti su quella rotonda, quasi tutti, si sono fatti avanti con me. La maggioranza mi ha mandato tramite posta elettronica, dove io poi ho potuto controllare nomi, cognomi, numeri telefonici e quant'altro, c'è questa GP, questa fantomatica persona, che ha individuato, o avrebbe individuato, laddove le persone abitano. Noi non sappiamo, io, Chiumiento, Antonio, non so perché, ti faccio capire subito, è anche un'altra notizia. Cioè questo GP... No, un'altra notizia che vale veramente la pena per voi, giornalisti. GP, questo GP cosa fa? Manda da lì a tutti? Allora, uno si chiede, si chiede, stanno tutti bene quelle persone coinvolte quella notte dell'11 febbraio? No. Una famiglia mi sta chiedendo aiuto. Ma perché non scusate qui? Mi sta chiedendo aiuto, in quanto una delle persone presenti su quella rotonda ha dei problemi, non so dirvi, problemi gravi, abbastanza gravi, abbastanza delicati, dopo la visione di quella creatura. Io non so, come ricercatore, come investigatore, come abbia influito la creatura su di lui. Fatto sta che, estrema sintesi perché il tempo vola, ha lasciato l'attività, ha 34 anni, è sposato, ha lasciato l'attività al fratello maggiore ed è attualmente, o quantomeno ieri l'altro, ricoverato in un ospedale di Udine. Perché? Perché di notte, di notte... Lui vede l'animale. Ha degli incubi, ha degli incubi, diciamo incubi ma entra anche in stati comatosi, che hanno preoccupato moltissimo il fratello maggiore, il fratello minore e la moglie, non hanno figli. Io ora sto tenendo i rapporti con la famiglia... Sì, ma G e P, che c'è... Ecco, ecco, attenzione. No, perché voglio che capiscono i telespettatori, questa è una notizia, in quanto il giovane non ha risentito assolutamente di niente, sta benissimo. Ad esempio questo ragazzo, perché possiamo dirlo di 34 anni, è ricoverato in ospedale, dice delle parole che per la neurologia non è assolutamente comprensibile, ma per me e per il giovane forse lo è. Spiegati meglio. Perché dice... Sento molto freddo, ho qualcosa che mi pesa, mi pesa, mi pesa, mi vedo dentro e altre frasi ed altre cose che per me e per, ripeto, il giovane di Codroipo possono avere un determinato significato facendoci riferimento alla creatura. La creatura quindi sta influendo psicologicamente... Sembrerebbe influire negativamente in maniera negativissima, portandolo in stati comatosi. Addirittura. Certo, ha delle... nel sonno, tutto avverrebbe nel sonno. Ma cosa dicono i medici? I medici non sanno... La cosa è dovuto. Ecco, i familiari non hanno, per quanto mi risulta, assolutamente voluto, come dire, entrare nei dettagli dello shock per lui, della visione di quella bruttissima, che ha i suoi occhi, bruttissima creatura e si sono limitati a dire che c'è un... c'è stato un certo accadimento in febbraio che la... Sì, ma fammi... Ecco, è GP. Ecco. GP, io tengo i rapporti con la famiglia che come avete sentito ho detto né nomi né cognomi... Dico subito, no Alessandro, non è il GP che conosciamo noi in radio. Sì, G, maiuscolo, punto, P, maiuscolo, punto. No, no, lui no, lui no. Allora, carissimi telespettatori, carissimo Gigi, i rapporti tra la famiglia, il fratello minore soprattutto e me, vengono tenuti proprio per un costante sapere come sta... Monitoraggio, diciamo. Monitoraggio, come sta, ma non ho detto né nomi che sia chiaro, né della famiglia. E neanche nobè. Neurologia, potrebbe essere in qualunque ospedale di Udine, del Friuli, eccetera, eccetera, ma chiaramente se ha degli stati, dei disturbi, delle onde, determinate onde celebrali durante la notte, senza i dettagli perché abbiamo il tempo, con degli squilibri alle onde che la medicina non riesce a capire, quale possa essere il motivo, ma io che so essere un testimone, puntini puntini, poche notti fa, alle due di notte, suona il campanello della casa del ragazzo. Il ragazzo è ancora ricoverato in ospedale. La moglie si sveglia, non riesce a capire chi sia, poi pensa di averlo sognato, scende in cucina per farsi un tè caldo e torna a suonare il campanello, si affaccia alla finestra, vede che il cancelletto è aperto, chiama il cognato, il fratello e trovano un biglietto. Praticamente il fratello arriva e fa un giro, vede, trova un foglio A4 scritto e lasciato fuori dell'ingresso dove c'è scritto di tutto e di più su di me. Voi vi siete fidati della persona sbagliata, il pedofilo chiumiento non mantiene assolutamente la privacy, non mantiene assolutamente l'anonimato delle persone. Cioè, insomma, io mi chiedo come ha fatto questa GP o questo GP a sapere nome e cognome della famiglia e come ha fatto a trovare l'indirizzo. Cioè qui siamo veramente a livelli... Ti voglio gettare un dubbio. Sì. E chissà che questo dubbio magari non possa anche a te aprire le menti. Certo. Non pensi magari che fosse qualche tuo collaboratore? No. No. Perché pensa, Gigi. No, ma pensa. Aspetta. Sì, scusami. Qualcuno, insomma... Della cerchia. Della cerchia che ti aiuta abbia invidia o abbia in qualche modo... No. No. Sai perché? Perché? No, no, no. Ma ti dico no, fai bene. Mamma mia, scherzi. Così i telespettatori capiscono meglio. Allora, tutte le emissive delle persone coinvolte nella vicenda le ho soltanto io. Credere o non credere. Quindi può essere soltanto... Ecco, il ragazzo di Codroipo è pubblico. Tutti i miei collaboratori. Gli altri no. Gli altri no. Gli altri io li ho soltanto io dove? Attenzione. Nel computer. Bravo. Quindi qui si pensa a qualcuno che addirittura... Qualcuno che è intanto... Un hacker, si dice. Se è hacker. Che si inserisca dentro... Al tuo computer. Al mio computer. Che lega tutto. E che lega... Perché questa GP o questo GP ha detto io conosco tutto di voi. So tutto di voi. E non è finita. Allora, sentite i telespettatori. Cosa potete dedurre voi da tutto ciò? Guardate. Per la prima volta in assoluto ho la grande soddisfazione, ma non per incensarvi perché sono la persona più scemice della terra. È vero. Di dare alle stampe una storia, una vicenda che ha un'importanza veramente mondiale. perché ci sono anche questi risvolti da giallo, che quindi c'è l'interesse di qualcuno non ben identificato, assolutamente, che vuole creare dello scompiglio, tenta di fare dello scompiglio tra me e i testimoni, perché non abbiamo avuto il tempo neanche di dire che tentativi hanno fatto per rovinare il rapporto tra me e la famiglia del giovane, non abbiamo il tempo, ma è la dimostrazione più inequivocabile che la cosiddetta creatura di Mortegliano dà tremendamente fastidio. Io, come immagini, vi ho lasciato sia l'ultima ricostruzione definitiva approvata dal giovane di Codroipo fatta da un altro disegnatore che si chiama Claudio Donà, che ha voluto incontrare insieme a me più di una volta il giovane di Codroipo. Vi ho lasciato anche quelle due precedenti che ci sono state mostrate di Massimo Degas, sempre sotto approvazione al 96% circa da parte del giovane di Codroipo. e poi c'è anche la cartina dove vengono indicati i sei punti dove la stessa, cioè dove la creatura, la stessa o una e la stessa specie è stata osservata, dove io ho potuto indagare. E poi le foto aeree, le piantine, meglio le piantine, non credo che siano foto aeree, scusatemi, piantine o foto aeree se lo ricordo, delle zone vicino alle rotonde. Un'altra notizia voglio darvi telespettatori e uno dice ma quella notte, quella notte dell'11 febbraio, questa creatura che ha creato, che aveva determinato meglio tanti effetti sulle macchine eccetera eccetera, sui cellulari, o meglio sulle macchine inteso come funzionamento del motore, ma sulla cittadina di Mortegliano, su altre località circostanti ci sono stati degli effetti? Bene, nel libro, adesso l'anticipo, c'è la testimonianza raccolta pochi giorni fa, nome e cognome di due ragazzi, di due ragazzi, che hanno detto quanto segue e mi hanno autorizzato a mettere il nome e cognome. Ore 21 circa di sabato, sabato chiedo scusa, 11 febbraio, ci troviamo a Mortegliano. Una signora, la mamma del ragazzo, accompagna il figlio maggiore, chiedo scusa, a Pozzo di Codroipo, perché va a dormire a casa della ragazza. All'una circa della notte tra l'undici e il dodici, la mamma e il figlio minore vengono svegliati da come fosse una grande scossa di terremoto, cioè la casa è come si... Balla, bravo. Allora loro cosa pensano? Oddio il terremoto, si affacciano alla finestra, si rendono conto che non c'è scossa di terremoto, in quanto non c'è nessuno per la strada e allora più che terremoto i due testimoni, ripeto uno di due nome e cognome, affermano che si trattava come una sorta di grande ultrasuono. Non è finita, alle due di notte chiama il figlio maggiore o il fratello maggiore e spaventatissimo dice, ma sapete, e lui non sapeva cosa era successo a Mortegliano come una specie di terremoto. Voi non avete neanche idea che paura abbiamo preso io e la ragazza. Siamo stati svegliati verso le due di notte perché, sì, poco tempo fa, chiedo scusa perché ha telefonato intorno alle due, poco tempo fa siamo stati svegliati, attenzione, pensate voi, come un film di fantascienza. Allora tutti si sono messi in accordo, incredibile, è assurdo, non è possibile. I cellulari suonavano in continuazione, Gigi, senza nemmeno toccarli, si accendevano e si spegnevano e suonavano che loro non erano in grado di spegnerli. Si sono spaventatissimi, si sono affacciati alla finestra, questo a Pozzo di Codroipo, e hanno guardato fuori dalla finestra, che sta succedendo. Cosa hanno visto? Quello di altre testimonianze da me raccolte. I lampioni stradali si accendevano e si spegnevano in sincrono con l'accendersi e lo spegnersi dei cellulari. Guarda, questo per quanto ovviamente ne so io, dopo aver proposto la trasmissione allora, ti ho anche poi edotto del tutto, sono arrivati dei messaggi da gente di Sedeliano e delle zone con termini, ma anche di Codroipo, le quali hanno affermato che a tal'ora della notte i lampioni si accendevano e si spegnevano. Cioè abbiamo avuto altre, quindi vai a corroborare altre testimonianze. Gigi, posso permettermi di far vedere questi libri che non li trovano? O ti dispiace? Apri gli occhi, manca un minuto e 37 secondi. Scusami se mi permetto. La settimana prossima ancora un appuntamento con l'amico Antonio Chiumiento, con l'esclusiva in questo caso. Metterei l'appuntamento con gli UFO. Questo è chiudi, ah, apri gli occhi. Alieni tra noi, i politici direte voi. No, 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 qui proprio sono alieni nel vero senso della parola. E ancora l'UFO, Nauta, anche qui, storie vissute da persone, ovviamente, e da uomini e donne. No, ma siccome molta gente non riesce a trovarli, posso dare il mio indirizzo di posta elettronica? E dai il tuo indirizzo di posta elettronica? Antonio, trattino basso, underscore, Chiumiento, chiocciola, libero, punto it. Grazie mille, veramente perché tanti non li riescono a trovare per in Italia. No, ma allora, grazie. Può crederci e non crederci. Uno può sorridere, sghignazzare, uno può seriamente pensarsi. Ma questo è il bello della vita. E poi? Ah, permettimi Gigi, una sola parola. Mi devi permettere per l'amicizia che abbiamo, perché mi stavo dimenticando, guarda. Io sono stato tantissimo male, abbiamo 15 secondi, tantissimo male. Permettimi, per l'amicizia che abbiamo da anni. Guarda, io sono... Ero super stressato. Guarda, ero super stressato. E guardate, le medicine convenzionali non mi facevano un bel niente. Mi potevano soltanto calmare. Ma una signora, veramente una professionista, che si chiama Nadia Piazza, che ti prego di intervistarla. Ma andremo a intervistare, sì. Guarda, scusami, perché veramente questa signora, Nadia Piazza... Nadia Piazza, ti ho trovato diverso. È una professionista, ma me l'ha dimostrato, perché applicando la, si chiama riflessologia plantare e massoterapia, io poi mi sono un po' informato ed era conosciuta anche dei faraoni, degli antichi cristiani. Sotto i piedi noi abbiamo la corrispondenza di vari organi. Guardate, credetemi se potete... Abbiamo una pianta organica. Guardate, credetemi se potete, stavo veramente male. Pensate allo stress di essere allontanato da una scuola come un delinquente e per l'accusa di molestie sessuali. Nadia Piazza, che ha uno studio a Torre di Pordenone, ma ti prego di intervistarla, perché ne vale veramente la pena. È riuscita a riportarti allo stato normale? È riuscita, guarda, credemi, mi ha fatto vedere lei stessa come il sistema neurovegetativo mio espelleva stress e stress. È una vera professionista. Grazie. Niente, hai fatto bene anche tu a ricordarlo. Dicevo, alla fine c'è chi può, che ride, chi sghignazza, chi può prendere in giro, chi no, chi insomma... Ma in questi volumi ci sono solamente testimonianze di persone che hanno avuto, tra virgolette, la sfiga, è il caso di dire, di incontrare esseri, oggetti o situazioni non note a noi terrestri. Ma scusatemi, chi ha detto poi che dobbiamo essere per forza noi gli unici abitanti di tutte le galassie? Anche perché dove c'è acqua mi dicono c'è vita. E su Marte, proprio qualche giorno fa, il robottino ha scoperto un lago, ma non con acqua fluente. Un lago con residui di acqua. Alla settimana prossima, con l'esclusiva Antonio Chiunietto.